Bum bam! Attenzione! Il gol che dà la situazione di parità Sembra una partita equilibrata sulla carta Con due squadre che seguono il Valver Ma se guardiamo le conclusioni in porta non ci vediamo Hanno concretizzato la loro superiorità al tiro Con questo bel gol Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra golazione Splendido Grazie